Vediamo l'energia, la capacità di compiere il lavoro e di trasferire il calore. Vediamo su, diamo un'occhiata a Wikipedia, dove vediamo proprio la voce energia. Che cos'è? È la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere il lavoro. Si parla di lavoro. Si intende per energia, uno dei significati, è forza in azione, forza che fa qualcosa. Infatti, come è definita l'energia, la capacità di un corpo o di un sistema di eseguire lavoro e di trasferire calore. Allora, il concetto di energia è molto articolato, molto ampio, per cui è facile perdersi. Vediamo delle cose chiare, definite. L'energia è la capacità di un corpo di eseguire lavoro e di trasferire calore. Che vuol dire lavoro? Beh, il lavoro è definito così. Come la forza, una forza che provoca uno spostamento. Si misura in joule. Sia l'energia che il lavoro si esprimono in joule. E il simbolo è J. Si usa anche la caloria, il libro fa riferimento alla caloria, che è l'energia in campo biochimico, in campo alimentare, che è definita in modo un po' curioso, come la quantità di calore che serve per riscaldare un grammo d'acqua da 14,5 a 15,5 Celsius. E non fa parte del sistema internazionale. Viene fatto questo accenno perché è molto usata nel linguaggio comune, come apporto calorico dei cibi, per esempio. E' importante tenere presente che la conversione tra unità di misura dell'energia tra caloria e joule è questa. Una caloria corrisponde a 4,18 joule. Quindi quando ne avremo bisogno dovremo usare questa equivalenza. L'energia cinetica. Allora, vari tipi di energia. Siccome l'energia ci sono varie forme di energia, allora ci andiamo a dettagliare, andiamo a dettagliare, andiamo a considerare specifici aspetti dell'energia che la materia può possedere. E vediamo in questo caso. Energia cinetica. Cinetica vuol dire in movimento, dovuto al movimento dei corpi. Un corpo in movimento, ha questa energia cinetica. Cioè, un mezzo moltiplicato la velocità al quadrato. Un mezzo della massa. Allora, un corpo che ha massa m, moltiplicata la sua velocità, ha questa energia cinetica. Un mezzo m per v al quadrato. Questo significa che una bicicletta, che ha una massa piccolina, e un camion, che ha una massa molto grande, se viaggiano entrambi a 20 km all'ora, possiedono un'energia cinetica ben diversa, perché la massa del camion è molto maggiore. Quindi, l'energia cinetica è un'energia che un corpo possiede, the energy that matter possesses due to its motion, dovuta al movimento. un'altra energia, forma di energia che un corpo può possedere, è l'energia potenziale. Che vuol dire? L'energia dovuta alla sua posizione. Alla sua posizione in un campo, in questo caso gravitazionale. Oppure l'energia chimica contenuta nei combustibili. Vediamo quest'ultimo caso. I combustibili noi li usiamo nel motore a scoppio. Nel motore a scoppio avviene un'esplosione. Questa esplosione fa trasformare il metano che brucia, oppure la benzina che brucia, oppure il gasolio che brucia. E che cosa succede? Brucia e succede una trasformazione, la combustione, che ha come effetto l'aumento della forza applicata sul pistone. E il pistone viene spinto in basso. Quando il pistone viene spinto in basso da questa forza, attraverso la biella e l'albero motore, viene messo in rotazione l'albero motore. E l'albero motore poi trasferisce il suo movimento alle ruote del veicolo. Questo significa che l'energia chimica potenziale contenuta nel combustibile, partiamo dal metano, produce, con la trasformazione che avviene dello scoppio, una forza che provoca lo spostamento del pistone e, in ultima analisi, lo spostamento dell'automobile. Ora, l'energia chimica posseduta dal metano è differente dall'energia chimica posseduta dagli altri combustibili, come benzina, gasolio, cherosene. Questa energia chimica è un'energia chimica potenziale, infatti, quando il combustibile si trova nel serbatoio, sotto forma gassosa, come il metano, sotto forma liquida, come la benzina, possiede un'energia chimica potenziale che diventa in atto, in azione, diventa cinetica fino a diventare movimento dell'albero motore e movimento del veicolo. Questo fa sì che quella forza viene applicata fino a produrre uno spostamento ed ecco che viene prodotto il lavoro. Ecco che lo spostamento è il frutto dell'energia potenziale che diventa energia cinetica. in ultima analisi riuscendo a mettere in movimento, cioè a far avere una velocità di movimento. Nel caso dell'energia potenziale gravitazionale non si ha una reazione chimica, non si ha la combustione. l'energia potenziale gravitazionale possieduta da un corpo dipende dalla sua posizione, dipende dalla sua altezza. Ed ecco che questo oggetto in alto possiede una maggiore energia potenziale che non quando viene lasciato cadere verso il basso. quando è in alto ha una maggiore energia potenziale, quando cade diminuisce la propria energia potenziale che si trasforma in movimento, in energia, in energia cinetica. Questo lo vediamo anche in modo forse più chiaro questo giovanotto che gioca col suo skateboard in questa pista curva. Quando si trova in questa posizione è fermo ed è al massimo di energia potenziale. Quando poi scorre verso il basso aumenta la sua velocità diminuisce l'energia potenziale. Quando poi ricomincia ad andare verso l'alto aumenta di nuovo la sua altezza diminuisce la velocità fino a fermarsi tutta l'energia cinetica. si è trasformata di nuovo in energia potenziale. Tutto questo grazie al fatto che il corpo materiale è immerso in un campo gravitazionale. Vediamo la dizione in inglese The energy that matter possesses due to its position in a field of force dovuta alla sua posizione in un campo in un campo di forza il campo di forza è il campo gravitazionale dove in ogni punto in base alla sua altezza H agisce l'accelerazione di gravità e H determina la variazione della forza alla quale è sottoposto determina la variazione dell'energia potenziale alla quale è sottoposto. torniamo un attimo sulle unità di misura il joule è dato dalla newton per metro il joule che è l'unità di misura dell'energia del lavoro in questo caso è data la forza per spostamento lo spostamento si esprime in metri la forza in newton il newton è una grandezza derivata espressa dalla massa moltiplicato l'accelerazione la massa si esprime in chilogrammi l'accelerazione si esprime in metri all'umeratore al secondo al quadrato al denominatore secondo al quadrato al denominatore compare chilogrammi all'umeratore massa moltiplicato s la massa dello spostamento non massa metri moltiplicato i metri dello spostamento e i metri della forza moltiplicato i metri dello spostamento dipendono metri al quadrato e quindi le dimensioni del joule come unità di misura sono chilogrammo per metro al quadrato fratto secondo al quadrato queste sono le unità di misura fondamentali delle grandezze fondamentali che esprimono la grandezza derivata dell'energia joule il chilogrammo è la massa quindi è una massa moltiplicato distanza al quadrato diviso tempo al quadrato che esprimono Grazie a tutti.